Parigi cadde senza combattere Il 10 giugno 1940 gli italiani entrano in guerra a fianco dei tedeschi durante la battaglia delle Ardenne. Penetrano nella Savoia e nella Francia meridionale. Il 14 giugno Parigi cade senza combattere e una settimana dopo il governo francese accetta l'armistizio. L'Italia non combatte vigliacamente contro un nemico già vinto? Non l'Italia ma il suo dittatore. Allora l'Italia era innocente? No, perché l'Italia aveva creato e percepito il dittatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.